Buongiorno a Riccardo Ricciardi per il Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Ricciardi, allora, abbiamo visto tante evoluzioni del Movimento 5 Stelle, da mai con il partito di Bibiano, invece all'alleanza con il Partito Democratico, a mai con quelli del Bunga Bunga, invece ricevere i voti di esponenti che con quella fase magari hanno avuto a che fare, se non per presenza e vicinanza a Berlusconi, e quindi adesso va bene anche Forza Italia. Insomma, va bene tutto adesso, anche i responsabili, anche gli ex 5 Stelle cacciati, espulsi proprio per il tradimento sui rimborsi e quindi sui soldi. Tutto adesso va bene? Io non ho mai capito perché non chiedete agli altri partiti che hanno sempre detto mai con i 5 Stelle perché siete con i 5 Stelle. Perché guarda poco la televisione, perché gliel'abbiamo chiesto. Perché, sì, ma va bene, guarderò poco la televisione, allora. Ne guarderò di più. Detto questo, siamo in una situazione che sembra che non esista di un recovery plan, di un piano vaccinale e qualcuno si è divertito a far saltare un governo che esiste, che ha preso la fiducia. Poi, se vogliamo fare le ricostruzioni, se ci fosse stato un altro regolamento, se 15 anni fa quanta percentuale mancava il governo Berlusconi, di cosa stiamo parlando? Siamo andati in Parlamento e Conte ha fatto benissimo per rendere assolutamente trasparente lo Stato dell'arte. C'è stata una fiducia, dove chiaramente se il regolamento fosse stato quello di anni fa, dove l'astenzione al Senato voleva dire no, probabilmente, io non so se tutte le astenzioni sarebbero state astenzioni, quindi magari i numeri sarebbero stati più larghi, dove chiaramente c'è un progetto che Conte ha portato in maniera molto trasparente in Aula, molto trasparente in Aula, alle forze e ai parlamentari che compongono il Parlamento, sia alla Camera che al Senato, e una richiesta di collaborazione chiara, ma che non è una roba fatta al chiuso dei palazzi, dove io ti prometto questo anziché quell'altro. Sì, sì, apertamente. Perché nel momento in cui si parlamentarizza, si va in Aula, si fa un programma, si ascoltano gli interventi, si fanno delle repliche nel merito degli interventi di tutti i deputati e senatori, c'è un progetto, alla luce del sole, richiamato più volte dal Presidente Conte, dove se un parlamentare, i parlamentari che hanno deciso di votare la fiducia al governo Conte, ma non è che c'è stata qualche trattativa sotto Bosco o qualcosa di non detto, ma più di venire in Parlamento cosa bisogna fare? No, ma sa perché, perché glielo chiedo e per capire, è proprio perché quando voi siete entrati in Parlamento, e devo dire qualcuno vi guardava anche con la puzza sotto il naso, a volte capita anche nella nostra categoria, io invece vi seguivo molto attentamente senza ideologia, e quindi quella opposizione, quella aprire la scatoletta di tonno, quel volere in qualche modo rivoluzionare la politica, e poi ci siete anche riusciti, perché facendo opposizione oggettivamente avete costretto la politica qualche volta ad andare su certi temi. Lei giustamente diceva, prima si faceva sotto banco la compravendita, adesso è tutto alla luce del sole ed è vero, Conte ha fatto diversi appelli, quindi ha portato tutto quello di cui prima si parlava sotto Bosco alla luce del sole, ma siamo sicuri che vada bene lo stesso solo perché è alla luce del sole? Eh, però mettetevi d'accordo, cosa vi va bene? Ho chiedo a voi proprio per la premessa che ho fatto, per capire. Noi siamo sia nella crisi del governo Conte 1 che in questa crisi nel governo Conte 2, il Presidente con una comunanza di deco, il Movimento 5 Stelle chiara, che è quella di rendere trasparente questi processi perché i cittadini a casa capissero cosa stesse accadendo. Io credo che nei momenti parlamentari, diciamo culmine di questa legislatura che fu ad agosto la famosa dichiarazione con Salvini accanto e la giornata della Camera e del Senato dell'altro giorno, gli italiani e le italiane abbiano avuto la possibilità di vedere un Presidente del Consiglio che si presentava in tutta trasparenza alle Camere e prendeva un voto di fiducia. Questo accade. Le nostre promesse, perché anche su questa cosa che il Movimento prima diceva una cosa o prima ne diceva un'altra, il Movimento è entrato in Parlamento dicendo il nostro obiettivo è il reddito di cittadinanza, la legge spazzacorrotti, una trasparenza nella gestione della cosa pubblica. queste cose che si sono realizzate è arrivata una pandemia che ha permesso al Movimento 5 Stelle di far vedere qual è l'idea di Europa che finalmente vogliamo. Sì, però è un movimento che è entrato anche dandosi e con delle regole ben precise che poi più o meno... Che rispettiamo sempre. Insomma, vincolo di mandato, Rousseau, adesso non sappiamo, cioè si è arrivati a questo voto senza Rousseau. Bonaccini proprio adesso ha detto che serva una nuova squadra di governo, non bastano i numeri, ma un programma di legislatura rafforzato. Credo che serva nel giro di pochi giorni, come penso pretenda giustamente il Capo dello Stato, un numero di parlamentari e senatori che garantisca che i numeri della maggioranza vengano irrobustiti. Insomma, un po' il patto di legislatura e tutto quello di cui abbiamo sentito perfettamente in linea. Senta Ricciardi, le cito ancora alcuni passaggi dell'intervista di Di Maio. Sono tante le domande a chi volete allargare, all'Udc, a Forza Italia. Di Maio dice ci siamo rivolti ai parlamentari animati da uno spirito europeo che però, attenzione, prevede delle sfide. Dovremmo lavorare per superare il patto di stabilità, prorogare ulteriormente il temporary frame, batterci perché la conferenza sul futuro superi la regola dell'unanimità. Insomma, tutto questo richiede una forza parlamentare maggiore e sono fiducioso che si possa trovare, che ci sia. Poi abbiamo fatto già il riverimento a Forza Italia sul fatto che non c'è nessun imbarazzo e poi sul vincolo di mandato. Se ci fosse il vincolo di mandato in cui noi crediamo, Italia Viva oggi non esisterebbe, non avremmo avuto tutti questi problemi. Le posso chiedere se su questa apertura ai responsabili, ma anche a Forza Italia, quindi anche altri elementi che fino a poco tempo fa il Movimento 5 Stelle definiva come ha definito e comunque non voleva avere come alleati, interpellerete via Rousseau i vostri militanti, i vostri elettori? E' vero che questa ora è una domanda prematura rispetto a quello che accadrà. Però scusi, prima lo fate, apertamente lo chiedete e quindi poi dopo che fate chiedete forse a loro... Ho detto che è una domanda prematura, non ho detto che è una domanda che non ci porremo, ho detto che in questo momento è una domanda prematura. E quando, diciamo così, vi porrete il problema, vi riunirete per deciderlo? Rousseau è stato interpellato sulla formazione del primo governo Conte 1, sulla formazione sul mandato, il secondo mandato a Conte 2, diciamo, ma non è che noi bisogna interpellare nel momento in cui abbiamo dei recovery plan, dove, guardi, su 945 parlamentari, io credo che s'avessero tutti di fronte con la bacchetta magica la possibilità di scrivere il loro recovery plan individuale da 209 miliardi, non ce ne sarebbe uno uguale all'altro, ma l'80-90% ad esempio delle infrastrutture che servono a questo Paese sono identiche a tutti, tutti sappiamo cosa serve, delle infrastrutture al sud, di rafforzamento delle ferrovie, eccetera, eccetera, eccetera. Se poi, come è accaduto negli ultimi mesi, su 100 opere che bisogna fare, invece di concentrarci su realizzarne 95, si mette sempre l'accento sul ponte sullo stretto di Messina, che è evidentemente un'opera divisiva, allora che atteggiamento è? Vogliamo parlare delle 95 che si possono realizzare o delle 5 dove non c'è oggettivamente una uniformità di pensiero politico? Siamo tutti d'accordo e io mi auguro che ci siano molti parlamentari, oltre la coalizione attuale di maggioranza, che si concordano che in questo Paese si debba fare una vera transizione ecologica, una digitalizzazione, perché questo c'è scritto nel recovery plan. Siamo tutti d'accordo che si debbano ristorare maggiormente, perché questo era il progetto fin da subito di un decreto all'inizio dell'anno, il Ristori 5 con uno scostamento di bilancio da 32 miliardi, che andasse a fare un'opera maggiore e più precisa di ristori rispetto all'anno passato. Siamo tutti d'accordo che questa cosa va fatta? Perché se c'è qualche parlamentare che dice no, io non sono d'accordo, benissimo, ce ne faremo una ragione, se c'è la maggioranza del Parlamento che ad oggi non c'è, che dice che non siamo d'accordo che queste cose vadano fatte indipendentemente da chi le fa, allora ne prenderemo atto. Ma è il punto, cioè il governo è più forte o più debole. Io credo che se ci sarà una nuova formazione, ci saranno dei parlamentari, invece di concentrarci sulle cose che ci uniscono, che ripeto, sono tantissime, ci si concentra sulle cose che dividono, se ogni 3x2, mi cito, il ponte sullo stretto, il MES, è evidente che anche il centro-destra, così al governo, il MES, il mitascierebbe nel centro-destra. Però ecco, diciamo, in questo momento non lo avete valutato, insomma, non lo esclude, ma neanche è il tema in questo momento. potrebbe esserci un problema sui possibili costruttori, Ricciardi, perché sarebbe stato indagato Cesa, arrestato il segretario calabrese Udc, in una maxi-operazione appunto anti-ndrangueta ed è stato, sarebbe stato perquisito anche il suo ufficio. Questo può essere un problema? Naturalmente poi usciranno e verificheremo, ma l'anticipazione che io ho è questa. Io me la sta dando lei questa notizia, quindi ovviamente non ne sapevo nulla. Per noi è evidente che la compagine di governo debba essere al di sopra di ogni sospetto. La Lega lo sa bene quando eravamo al governo insieme quanto noi abbiamo insistito perché gli esponenti che non erano al di sopra di ogni sospetto diciamo, facessero un passo indietro rispetto alla compagine governativa. Quindi per noi è un principio che è rimasto da sempre nel conte 1 e nel conte 2 e ora non so i contorni di questa indagine però non è vera proprio da E. C'è proprio una maxi operazione sulla andrangheta in tutta Italia è impegnato il personale della DIA Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza insomma è una cosa molto ampia e poi appunto c'è quello che le ho anticipato prima siccome parliamo di costruttori siccome parliamo del Movimento 5 Stelle che a questo punto l'appello è rivolto a tutti senza nessuna esclusione e siccome parliamo di un DNA ben preciso del movimento sul quale è nato a cominciare da onestà onestà molto forte volevo capire da lei in tal caso come si modifica l'appello oppure se chiederete io devo innanzitutto vedere la cosa ma ora si sta parlando la stiamo mandando anche in onda è come lo so però insomma magari non è un mezzo titolo che mi fa capire che tipo di inchiesta sia insomma guardiamo però stiamo parlando di un'operazione con un appello che il Movimento 5 Stelle fa Conte fa il governo fa ai parlamentari che compongono il Parlamento non su incarichi cose no di dire signori c'è da scrivere questo piano c'è da continuare con un piano vaccinale ci prendiamo la responsabilità di mandare avanti questo paese o vogliamo mandare tutto all'area non capisco l'associazione rispetto a un'operazione no no aspetti io la capisco perché se ci deve essere Minzo tu la capisci la spieghi anche a me provo a farla spiegare da Minzolini no no